Ciao Laura! Ciao! Allora, volevo farti alcune domande. La prima, lo scopo dell'Ars Music, in ambito scolastico, è quello di insegnare la bellezza attraverso le arti. Trovi riscontro in questa affermazione a lezione? Sì, perché mi fanno sentire la musica mia e quindi riesco a capire la bellezza di quest'arte. Benissimo. Ma per te, cos'è la musica? È il rifugio personale delle mie emozioni forti. E ultima domanda, si è instaurato un feeling tra te e il tuo maestro? Sì, perché mi ha aiutato a, diciamo, a superare le mie difficoltà. Perfetto. Allora, da 1 a 10, quanto consiglieresti Ars Music? 10! Grazie!